Sulla definizione di terrorismo, nessuno è riuscito ancora a dare una definizione di terrorismo, ma non perché non sia possibile definire il terrorismo, perché definendo tutte le ipotesi che sono state fatte dagli organismi internazionali, dai centri studi militari, tutte le ipotesi per definire terrorismo assomigliano talmente tanto alla guerra che nessuno ha il coraggio di dire che questo è il terrorismo, queste quattro righe ti dicono che cos'è il terrorismo, perché quelle quattro righe ti dicono anche che la stessa cosa è la guerra, la guerra oggi si fa per il 95% sui civili e gli strumenti che si usano sono fatti per colpire tendenzialmente la vita civile del paese, non si fa più la guerra tra eserciti, si fa comunque sempre guerra, è un'invenzione alla fine della seconda guerra mondiale, quella di bombardare le città. Che cos'è la guerra, Cecilia? Io ho una definizione che non sono sicura di poter dire in diretta, però la guerra è odore di sangue merda sostanzialmente, questa è una definizione che diede un nostro amico chirurgo tanti anni fa e per me è azzeccatissimo, almeno dal nostro punto di vista, di quelli che lavorano negli ospedali, la guerra è questo, l'odore di bruciato, è la tua casa distrutta, se poi lo chiede al contadino ti dice che la guerra è il campo che non ho più perché ci sono caduti sulle bombe, se lo chiedi al bambino ti dice che la guerra è che non posso più andare a scuola e sostanzialmente è questo, una grande distruzione di cose e di vite. Massimo Fini che cos'è il terrorismo? Il terrorismo è l'azione di gruppi minoritari che fanno atti di violenza contro civili come è stato per esempio il terrorismo brigatista, qui non definirei terrorismo in nessun modo come invece fa il ministro e la russa la resistenza afghana all'invasione e l'occupazione di truppe staginiere. Grazie per lo sforzo. Cecilia Strada in Afghanistan c'è stata, c'è il terrorismo, noi in Afghanistan ci siamo andati per combattere una guerra al terrorismo, c'è il terrorismo in Afghanistan? Io credo molto poco nel fatto che siamo andati in Afghanistan per combattere la guerra al terrorismo così come credo nulla al fatto che siamo andati lì per portare la democrazia o per difendere i diritti delle donne. E questa è una bella domanda, siamo andati probabilmente per testare la stabilità della NATO, per essere tutti insieme in una grande guerra, siamo andati per compattare l'Italia, è andata per compattare le alleanze internazionali, siamo andati perché deve passare un importante gasdotto in Afghanistan ed è buffo vedere sulla mappa, è buffo, è agghiacciante vedere sulla mappa dove dovrebbe passare il gasdotto, se poi la vai a sovrapporre con la mappa di dove si sta combattendo di più, la linea del gasdotto è circondata da piccoli simboli di esplosioni perché esattamente dovrebbe passare nelle zone in cui si sta combattendo di più. Credo veramente molto poco al fatto che siamo andati per combattere il terrorismo, se non altro perché quelli che hanno detto andiamo lì per combattere il terrorismo sono gli stessi che i talebani li avevano creati, armati, finanziati, coccolati, gli Stati Uniti sostanzialmente quando servivano per combattere i russi. A quell'epoca i mujahidin dell'alleanza del nord erano i nemici dell'occidente e i talebani erano gli amici, dopodiché sono sicuramente sfuggiti di mano e hanno cominciato a non rispondere più agli ordini e poi non servivano più perché i russi non c'erano più. Quindi io sostanzialmente quando qualcuno che ha creato il cosiddetto mostro poi dice aiutoci a un mostro andiamo a combatterlo, francamente ci credo molto poco. Non sono d'accordo con Sicilia su una cosa che è peraltro un fatto storico, cioè i talebani non nascono quando c'è l'occupazione sovietica, i talebani nascono dopo, nascono quando fra i capi militari che avevano combattuto l'Unione Sovietica, cioè Ismail Kahnwek, Mattiardo, Stum e anche Massoud, scopre una guerra civile per impardonarsi del potere e questi si trasformano in bande di taglieggiatori. Un camionista per fare l'Afghanistan dovrà pagare 20 taglie di borseggiatori, di assassini, di stupratori che agiscono nel più pieno arbitrio. Quindi il talebani nasce come reazione a questa situazione, sconfigge i signori della guerra, li caccia al di là dei confini e riporta all'ordine la legge in Afghanistan, un duro ordine e una dura legge, che peraltro non è estranea a quella popolazione come può essere per noi e questa era la soluzione che gli afghani avevano trovato per se stessi. Poi se i talebani non gli fossero andati bene, siccome lì ognuno c'era un kalashnikov, li avrebbero cacciati, ma in realtà nell'Afghanistan talebano c'era sicurezza, tuo padre mi ha detto che si poteva viaggiare anche di notte con l'Afghanistan. I signori della guerra erano stati cacciati, non c'era corruzione, però la semplice ragione è che i corrotti li tagliavano le mani, improponibile in Italia perché avremo un Parlamento di Moncherini e nell'ultimo anno, cioè in inizio del 2001, la prende una decisione straordinaria perché blocca la coltivazione del papavo da cui si ricava l'oppio. Adesso non viene mai detto, scusi, mi scusi, ma è importante perché saranno butti e sporchi e cattivi, ma questo è avvenuto, se lei prende i prospetti, vede che nel 2002, anno in cui rileva la decisione presa nel 2001, l'oppio cade quasi a zero. Oggi l'Afghanistan liberato produce il 93% dell'oppio. C'è una corruzione sistematica da parte delle forze governative, eccetera, poi sono ritornate le bande e tutto quanto. E finisco, ha detto Ash Fargani, che era il terzo candidato di queste farsesche elezioni di agosto, un medico, il più occidentalizzante di tutti, più figli occidentali di tutti, quindi insospettabile sotto questo aspetto, ha detto nel 2001 eravamo poveri, ma avevamo ancora una nostra moralità. Questo profluvio di dollari ha corrotto la nostra integrità. Ecco, cioè noi abbiamo fatto lì danni molto maggiori di quelli che ha fatto l'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica occupava, noi invece abbiamo voluto cambiare la società afghana. Adesso ci arriviamo ai danni. Tutte queste ricostruzioni storiche, agli occhi anche dei nostri connazionali, possono sembrare anche esercizi di filosofia, facilmente volabili come esercizi fini a se stessi. Però credo che un tema tangibile e su cui si può basare anche una riflessione obiettiva ed oggettiva sia quello dei costi. Sentiamo ancora un altro frammento di Masot Notariani che ci dice quanto costa, almeno per noi italiani, la guerra in Afghanistan. La guerra in Afghanistan circa poco meno di un milione e mezzo di euro al giorno. Il che vuol dire che in dieci giorni noi in Afghanistan, noi italiani, potremmo fare, rimanendo nel concreto, cinque ospedali, ma di quelli belli, non di quelli che la nostra cooperazione va a fare in giro per il mondo. Cinque ospedali da curarci i propri figli, cinquanta scuole, tre fabbriche in dieci giorni. La domanda nasce, come diceva qualcuno, assolutamente spontanea. Però prima ho una curiosità. Emergency è stata mai fatta oggetto di contestazioni da parte del popolo afgano? Qual è il sentimento degli afghani nei confronti dei presidi di Emergency? Gli unici con cui abbiamo avuto problemi sono in realtà i servizi di sicurezza afghani nello scorso aprile. La popolazione afghana, noi abbiamo curato due milioni e trecentomila afghani, afgano più, afgano meno. Il che vuol dire che sono nel nord, a Kabul e nel sud dell'Afghanistan. Io sono tornata dall'Afghanistan e stavo uscendo da Kabul, era all'aeroporto e mi ha inseguito un doganiere e mi sono chiesto perché voleva dirmi che aveva visto il badge di Emergency. Noi non ci conoscevamo assolutamente, però ci teneva a dirmi che sua moglie era stata ricoverata da noi in Panjshir due volte, che l'avevamo curata gratis. Gli afghani sono un popolo molto generoso, molto fiero, molto generoso, capace di enorme gratitudine. Certo, non se vai lì in armi, ma se vai lì a rispettare la loro cultura, li curi gratis, li curi bene, gli dai da mangiare, gli dai le medicine. Allora faccio finta che mi sfuga il concetto e glielo chiedo, perché gli occidentali che vanno vestiti in certo modo, parlo di una tuta mimetica e un'arma in mano o altro tipo di occidentali, come i contractors e altro, vengono visti come occupanti, mentre invece gli occidentali di Emergency no, vengono benvoluti. Perché noi andiamo a curare la gente e non a sparargli addosso, perché noi non dobbiamo spendere soldi per il giubbazoldi, per il giubbattenti proiettili, il filo spinato, i sacchi di sabbia, perché noi per farci strada agli incroci non spariamo addosso a nessuno, li spendiamo tutti per la popolazione afghana, quindi c'è rispetto verso di noi. Poi il problema non è soltanto i soldati degli eserciti regolari, c'è stato i contractors, i contractors sono un grande problema, io in quest'ultimo viaggio poche settimane fa in Afghanistan ho notato questa cosa, la volta precedente, un anno prima, ero l'unica straniera su un volo di afghani, da Dubai a Kabul, a questo giro eravamo 4 civili, tra cui masonotarianni e tutti gli altri erano contractors, che sono assolutamente riconoscibili, perché sembrano militari o militari, ma non sono militari, perché altrimenti viaggierebbero sul volo militare a Bagram contractors, quindi adesso il business della sicurezza sta facendo arricchire moltissima gente, non afghani, ma stranieri e si ripeterà probabilmente il copione che si è visto in Iraq, per cui da un certo punto della guerra in poi c'erano più contractors che non soldati nell'esercito regolare e che tra l'altro non sono sottoposti a nessuna legge. Gli ha sentiti i numeri, le ha sentite le cifre, credo che parlino da soli, però forse vale la pena fare una riflessione, oltre un milione e mezzo di euro al giorno si potrebbero costruire ospedali, strade, scuole, gli afghani a quel punto se non si conquista proprio la loro simpatia ce li si compra sicuramente. Noi spendiamo appunto 68 milioni al mese in Italia, gli americani 100 miliardi di dollari l'anno, però vede, secondo me una guerra non è che si fa o non si fa per una questione di costi o perché perdi dei soldati, perché se no non avremmo dovuto combattere… Siamo al principio iniziale, siamo lì per combattere il terrorismo, non avremmo dovuto combattere il nazismo secondo una logica di questo genere, quindi il problema certo, è ovvio, è vero, siccome la guerra è totalmente pretestuosa, il terrorismo non è in Afghanistan, il terrorismo internazionale ha messo che ci sia, ha messo che Al-Qaeda esista, non c'era un solo afgano nei comandos che attacarono le torri gemelle, non un solo afgano è stato trovato nelle cellule vero e presunte di Al-Qaeda, non sta nella loro cultura, nei dieci anni di combattimenti durissimi con l'Unione Sovietica non hanno fatto un solo atto di terrorismo, tanto meno kamikaze, né dentro né fuori al paese, pur che un Euroflot facilmente colpibile c'era ovunque. Ma insomma lei si è data una spiegazione, perché spendiamo un milione e mezzo di Euro al giorno per andare a far morire dei ragazzi quando invece potremmo spenderli per ricostruire un paese? Perché noi siamo dei cani fedeli degli Stati Uniti, adesso che ci sono messi in questa situazione e stanno perdendo sul campo, non dal punto di vista prettamente militare, perché hanno un esercito iper sofisticato, addirittura non combattono neanche quasi direttamente, combattono con i robot, con i predator. E l'avrebbe dato il Nobel per la pace a Obama? Ma neanche per sogno, Obama, ma volevo dire, gli Stati Uniti adesso si sono messi in questa situazione e per loro andare via dall'Afghanistan è una questione di prestigio, in più c'è una questione più importante che effettivamente si sfalderebbe la Nato, che però sarebbe un gran vantaggio per gli europei, perché la Nato è stata per 50 anni uno degli strumenti con cui gli americani hanno tenuto soggiogata militarmente, politicamente, economicamente e alla fine anche culturalmente l'Europa, quindi proprio noi europei non solo non dovremmo essere in Afghanistan, ma forse quasi combattere.